sempre e comunque forza napoli un giorno all'improvviso mi innamorai di te buonasera a forza napoli niente di meno neymar ufficiale al psg ma la cifra di quanto? ma di quanto? 222 milioni d'euro ma qualcuno di voi sapesse come si contano 222 milioni d'euro ma non si è immaginato ma capite che questa è un schiaffo la miseria questa è un schiaffo la miseria voglio 222 milioni d'euro mamma mia che montagna di soldi 222 milioni d'euro e sto ancora incredulo e non c'è credo 222 milioni d'euro ma proprio una cosa ma poi quello che dici no? esiste un fair play finanziario che poi giustamente furbi sia neymar e furbi sia il psg perché come andava allora come ben sapete esiste un fair play finanziario se il psg avrebbe comprato direttamente avrebbe comprato direttamente il a neymar 220 milioni d'euro per tutto sta cifra secondo me restavano proprio qual è il fair play? andavano proprio oltre quindi superavano i parametri ma vi spiego io com'è andata per quale motivo ma vi spiego per quale motivo il psg non supera come si dice il fair play finanziario non va come si dice ma non mi viene il termine esatto porca miseria non mi viene non infrange porca miseria e poi mi ricordavo non infrange il fair play finanziario perché ve lo spiego subito allora un azionista importante che mi sembra che si chiama catar federation o una cosa del genere questo catar federation sta giustamente molto in contatto col psg molto in contatto molto azionista pure su sto catar che è successo? visto e considerate che nel 2022 al catar a dicembre si faranno i mondiali e come testimonial testimonial è proprio neymar che è successo per svingolare per deviare questo fair play finanziario che è successo? che questa catar federation da 300 milioni 300 milioni di euro per fare il testimonial di questi mondiali al catar nel mese di dicembre nel 2022 che è successo? che è successo? si è appicchiato che su 220 milioni 300 milioni meno 222 milioni quanto so? fatevi il conto il resto giustamente va per il mondiale per fare il testimonial ma i 222 milioni che rimangono i 222 milioni che gli rimangono che fa? perché questo è tutto programmato perché i soldi sempre erano un psg vanno o di chi? ve lo dico io perché non credi che erano 300 milioni euro per fare un testimonial di un mondiale tra virgolette apri a chiudere i parenti quindi ho detto così togli i 222 milioni quello che rimane chi sono i soldi per il testimonial dei mondiali il resto che fa? il Neymar ha diplato bene questa cosa che ha fatto? si compra lui stesso il cartellino ed è proprietario lui stesso del cartellino automaticamente quando è proprietario perché lui prende si paga la clausola 222 milioni e si impossessa del suo cartellino Neymar e da quel momento in poi che Neymar si impossessa del suo cartellino si impossessa del suo cartellino lui è libero di andare in qualsiasi società però ci sta un pro e un contro tra virgolette perché alla fine e ha scelto ovviamente il PSG che il PSG per fatti burocratici non ne capava di questo si appava di stesso Neymar il cartellino e lui svingolandosi se ne va nel PSG mi sono spiegato fino adesso ma che succede? può essere pure un pro per il PSG che succede? ovviamente ha da mettere una clausola il PSG Neymar visto che il cartellino se l'è comprato lui se l'è comprato lui ma non è così ovviamente potrebbe pure riscuotersi contro al PSG che dice no io non voglio questa clausola quando mi ha sfastriato mi ne vaga tra virgolette non la voglio questa clausola la voglio solo contro la tasca d'enze non voglio questa clausola potrebbe fare ma non è così perché l'ingaggio è molto alto che gli da quindi la morale della favola risulta che il PSG non ha speso 222 milioni di euro per comprare Neymar perché così sfoderebbe il fair play finanziario è saccatato se Neymar ma spenderebbe solo i soldi per l'ingaggio quindi per il fair play finanziario il PSG ecco la diviazione il PSG sta a posto e non lo ha perciò si e tanti fattori del genere per non sforgiare il fair play finanziario fanno tutti questi vini avete capito? come hanno studiato bene in poche parole sono stato chiaro come funziona questa cosa in poche parole ve lo spiego proprio brevemente questo azionista importante questo Qatar Federation ha dato 300 milioni per fare lo sponsor dei mondiali del 2022 che si svolgeranno al Qatar 300 milioni d'euro per fare un testimonio ai mondiali però non saranno 300 milioni togli i 222 ma facendo quello conto ma al momento non faccio comunque se li avete 200 milioni quello che rimane quelli sui soldi del testimonial però ha dato 300 milioni ma chi li sorda là? quei 300 milioni alla fine anzi no i 222 milioni ci ha dato il PSG il resto ci ha dato gli stazionisti per fare questo testimonio ma alla fine i soldi vanno tutti su tutto partono tutto allora questa è la mi diciamo è la cosa per deviare il fair play finanziario che ho fatto? questa è la trama perché il PSG non supera il fair play finanziario quindi ci ho metto a pastetto e facendo così sto trabocchetto qua per la lega che i BPM non fa niente di niente di legale quindi io mi ho fatto il cartellino e ora ci vengo qui che poi alla fine diciamo che diciamo che diciamo che oggi poi nei marri parliamo chiaro secondo me ha voluto pure scucciarne nel PSG ha voluto provare nuovi stimoli perché ha vinto la Supercoppa Spagnola ha vinto la Champions League ha vinto la Coppa League come si chiama quindi e stimola alla fine e ora ovviamente va a provare nuove emozioni e nuovi stimoli nuovi stimoli che effettivamente nel PSG ma certo che sul PSG per la miseria sta spennendo un sacco di soldi tra Cavani Di Maria Monemar ma Ibrahimović ma non so a che soldi giustamente tutti i campioni che c'hanno e non fa mai chissà secondo me se non piglia la Champions League o PSG manco secondo me il PSG è come mai è negato proprio è come Rubin a proposito di Rubin D tanti auguri per il secondo mese quello che verrà mai staccato oggi è tre oggi è 3 agosto ma giù e lui vi saluto e vi ho spiegato più o meno come hanno fatto a deviare questo suo fair play finanziario questa è la situazione per come è stato deviato il fair play finanziario dal PSG e da Neymar hanno studiato tutto qua ciao a tutti un bacio sempre Forza Napoli perchè tutto è molto sicuro sempre ciao a tutti ah vi raccomando nelle info nelle info troverete tutti i miei social Instagram la mia pagina e aspetta qui ci sta e twitter ciao a tutti un bacio e Forza Napoli iscrivetevi al canale e mettete e saluta tu like ciao a tutti Forza Napoli per l'infinanza per l'infinanza per l'infinanza